Parole forti, dichiarazioni, quelle rilasciate da Vincenzo De Santis domenica sera nel corso di Sveva Sport 17, mal digerite dalla dirigenza del Barretta, che ieri sera ha reso noto con una comunicazione ufficiale di aver sollevato dall'incarico l'ormai ex direttore sportivo dei Biancorossi. Avendo avuto un po' più di lucidità e soprattutto equilibrio, probabilmente avevamo tutto il tempo per recuperare quegli errori iniziali che avevamo fatto e potevamo scrivere una pagina diversa in questo campionato. C'è un aspetto che ti rimproveri? Se potessi tornare indietro non lo rifaresti? Sì, aver accettato Barletta. Io lo sanno in parecchio, ho rifiutato Taranto per rimanere a Barletta. Quando ormai ero accordato a Barletta ho rifiutato Taranto, proprio perché credevo nel progetto, credevo in quello che si poteva fare. Purtroppo, ripeto, nel calcio, che non è una scienza esatta, una delle poche regole esatte è l'equilibrio. Se non c'è equilibrio, difficilmente poi si raggiungono risultati. Non si può vivere solo quando si vince. Bisogna essere equilibrati sempre. Storia di una separazione già annunciata al termine di questa stagione. L'avventura di De Santis al Barletta si è conclusa semplicemente con un mese di anticipo e la goccia, quella versata domenica sera durante la trasmissione sportiva di Telesveva, che ha fatto traboccare, come si dice in questi casi, il vaso. Il feeling tra le parti, inutile nasconderlo, è durato pochi mesi, non più di quattro. De Santis era stato scelto la scorsa estate, dopo le due promozioni consecutive con la Fidelisandria e la salvezza ottenuta tra mille difficoltà a Biceglie, per riportare il Barletta in serie D. I risultati non gli hanno dato ragione per responsabilità anche, ma non solo. Sue ha accusato la dirigenza, ad un certo punto di questo campionato, di aver gettato troppo presto la spugna, di non aver saputo conservare il necessario equilibrio. termine quest'ultimo che ha infastidito i vertici societari e che trova spazio anche nel comunicato di ieri sera in cui viene augurato allo stesso De Santis di proseguire la propria carriera nel mondo del calcio in società dotate proprio di maggiore equilibrio, botta da una parte e risposta dall'altra in attesa della posizione ufficiale ormai eminente di un esponente della dirigenza che dovrà motivare i risultati deludenti di questa stagione e soprattutto ciò che a questo punto vale molto di più per i tifosi dovrà fare chiarezza sul futuro del calcio bianco-rosso. Grazie a tutti.